In questo primo tempo di partita di Supercoppa giocata a Milano tra Inter e Juventus abbiamo visto un Inter più aggressiva nel primo tempo, un Inter che ha tenuto più in mano il palino del gioco, più possesso palla la parte dell'Inter, però una Juventus che nonostante ciò si è comunque resa pericolosa, soprattutto nel gol con quella data in vantaggio, con un bel cross dove Weston McKennie riesce a colpire anche su un errore di valutazione da parte di De Frij, De Frij che sta compriendo un po' troppi errori ultimamente e poi Bastion è riuscito a accorciare quindi McKennie è riuscito a insaccare in porta, Andanovic qua esente da colpe, non poteva fare nulla, quindi la Juventus va in vantaggio nel primo tempo nonostante l'Inter comunque sta facendo la partita, però sulle palle perse la Juventus era comunque resa pericolosa, poi dopo il gol della Juventus c'è stato un pochino di crollo tra virgolette dell'Inter dove c'è stata un po' di confusione la Juventus qua ne ha un po' approfittato per venire un po' fuori dal possesso dei nerazzurri poi dopo c'è stato questo calcio di rigore netto su Dzeko dove sostanzialmente va Lautaro che è il rigorista e lo segna si torna sull'1-1, poi l'Inter ritorna come prima, continua ad attaccare, attaccare fino a che non va vicina diverse volte al gol, tra l'altro stava per farsi autogol Rabiot poi c'è stato un altro episodio molto dubbio in area di rigore dove Bastoni cade e viene preso da Kuluseski, però qua l'arbitro non fischia nulla nelle immagini non è che si capisce molto se c'è il contatto di Kuluseski ma è comunque un episodio dubbio nel secondo tempo invece la Juventus è un'occasione clamorosa con Bernardeschi il quale non c'entra la porta di poco e Andanovic era praticamente spiazzato, poi per il resto l'Inter domina il possesso palla senza però creare grossissimi problemi se non un colpo di testa di Dumfries e un'ottima parata da parte di Perin grande possesso palla da parte dell'Inter che arriva anche pericolosamente in area di rigore ma manca sempre quell'ultimo passaggio per concretizzare, per riuscire comunque a tirare in porta il secondo tempo si conclude sull'1-1 e quindi si va ai tempi supplementari in entrambi i tempi supplementari vediamo l'Inter comunque come precedentemente aveva sempre il possesso palla dominare il gioco però comunque non arrivano le occasioni importanti poi dopo alla fine del secondo tempo supplementare arriva il gol di Alexis Sanchez che sigla il 2-1 dove la Juve cerca di fare fallo per portare Bonucci in campo e sperare di metterlo per i calci di rigore invece Alexis Sanchez distrugge ogni sogno bianco nero e porta la supercoppa italiana a casa dell'Inter